Sergio floccari appena arrivato a ferrara insomma quale clima hai trovato visto che hai seguito un attimo qualche scampolo di allenamento con la tua nuova formazione ma è il clima un po che che insomma mi avevano detto mi hanno parlato molto bene sotto tanti aspetti sotto tanti punti di vista di ferrara della spalla della squadra so che c'è un gruppo diciamo che da tanti anni che lavora che ha vinto dei campionati quindi chiaramente un'identità forte in un gruppo forte quindi ho trovato un po quello che mi aspettavo cosa ti ha convinto a venire qui alla spalla tante cose alcune appunto quelle che ti stavo dicendo proprio il fatto di trovare innanzitutto una società che ha un bel progetto che ha pianificato e programmato a media lunga scadenza quindi gettando delle basi solide per il futuro il fatto che la squadra stia disputando un gran bel campionato insomma è nelle prime posizioni quindi sta lottando per qualcosa di importante che forse a inizio anno nessuno pensava quindi questo sicuramente ha creato molto entusiasmo anche nei tifosi appunto mi hanno detto che in questo momento si vive quasi in simbiosi ecco con la squadra tifosi io penso che questo sia un elemento molto importante per poi riuscire a fare delle grandi cose insieme sempre in allenamento mentre lo seguivi è venuto a salutarti del grosso quindi insomma già un giocatore con cui avevi giocato sì in realtà l'ho affrontato nei campi di calcio sia dall'epoca della serie C quando si chiamava ancora serie C e poi nei campi di serie A quindi tanti anni quindi è fatto piacere ritrovarlo ma sarà lui un po' a introdurti nello spogliatoio sì beh poi mi hanno parlato bene del gruppo come dicevo prima della della squadra dei ragazzi poi toccherà a me sapermi inserire quindi da questo punto di vista penso che non avrò problemi Grazie 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 Grazie